Ed ecco cari amici vi sto facendo vedere la città di Gemona, Gemona del Friuli, circondata da queste bellissime montagne. Oggi è un giorno di sole, di splendore diciamo, siamo ormai proprio nella primavera, siamo alla fine di marzo e oggi mi è venuta l'idea di fermarmi proprio ritornando dal santuario della Madonna Missionaria di Tricesimo. Noi sti mattini, uno di noi ogni giorno si reca al santuario per essere presenti, dato che il Vescovo ha affidato a noi il santuario della Madonna Missionaria e mi sono fermato qui a Gemona Bassa per farvi vedere Gemona Alta. Ecco praticamente tutta la nostra città circondata da queste montagne. Voglio fare un giro per farvi vedere anche la bellezza di queste nostre terre. Ecco siamo, siamo proprio, stiamo vedendo la città di Gemona, vedete il castello, vedete anche il Duomo, il campanile del Duomo. Sappiamo che Gemona è stata completamente distrutta dal terremoto, dal terribile sisma del 1976, però è stata ricostruita, ricostruita in una forma molto bella. E anche la nostra casa degli Stimatini, che già vi ho fatto vedere in un altro video, era stata completamente distrutta dal terremoto ed ora è stata ricostruita ed è la sede, diciamo, della nostra comunità, ma anche una parte della casa è destinata proprio all'accoglienza di tanti giovani, studenti o lavoratori o persone o famiglie, insomma, che vengono per motivi di lavoro o per altri motivi. Bene da questo luogo, mentre sto tornando a casa dopo la mattinata passata al Santuario della Madonna Missionaria, vi saluto e vi auguro un buon fine settimana e una buona Santa Pasqua che celebreremo a metà del mese di aprile. Di nuovo un caro saluto e un abbraccio!